Io ho vissuto a Chieti perché mio padre era maresciallo dei carabinieri della regione di Chieti quindi è stata una strana sensazione ieri tornare alla regione di Chieti in veste da comandante provinciale nei luoghi che frequentavo da bambino insieme a mio padre. Quindi è una bellissima sensazione, anche orgoglioso di essere qui a Pescara nella speranza di fare veramente il meglio possibile per la cittadinanza e per la provincia di Pescara. La conosco per quello che ho potuto leggere nei vari documenti del comando provinciale in questi due giorni che sono qui in città. Ho girato l'Italia quindi conosco le varie criminalità perché le ho combattute e affrontate un po' in tutte le città, grosse città italiane. Colonnello, quali sono le criticità di una città come Pescara? Sbilanciarmi adesso mi sembra un po' prematuro. Sicuramente è una città molto viva e quindi sicuramente la microcriminalità sarà uno di quei settori in cui cercheremo di intervenire nel miglior modo possibile. So che il comando provinciale fino adesso ha fatto benissimo quindi sicuramente cercheremo di fare, ovviamente ancora meglio, ma il livello raggiunto dal comando provinciale Carabinieri di Pescara è veramente un livello molto alto. e spero di essere in grado di portarlo a livello anche ancora più elevato. Ripeto, i nostri piani operativi sono tre, preventivo, repressivo e relazionale in modo da coinvolgere veramente tutta la popolazione in questo grande progetto di sicurezza che abbiamo qui al comando provinciale e che le forze di polizia hanno in ambito nazionale.